Ciao a tutti voi da Rosi, benvenuti a questo appuntamento con la nostra vetrina dell'auto. Vi consiglio di seguirlo mentre state vedendo parte dello staff di Zappa che vi aspetta naturalmente qui. Vedete l'indirizzo, vedete il numero di telefono, ma soprattutto vedrete tantissime occasioni davvero molto interessanti che andranno a presentarvi. Vi consiglio di non accontentarvi di quello che vedrete in televisione, ma anche da visitare il sito oppure venire qui personalmente per trovare l'auto che state cercando, perché c'è un assortimento veramente in grado di soddisfare tutti. Grazie a tutti voi e seguiteci con attenzione. Buonasera a tutti e bentornati, sono Riccardo, bentornati appunto da Zappa. Senza troppi giri di parole, senza perdere tempo, iniziamo subito presentandovi questa fantastica 500 Abarth, una 595 allestimento turismo, immatricolata a marzo del 2019, è un chilometro zero, mai percorso nessun chilometro in strada, motore 1.4 turbo benzina da 165 cavalli, è un vero diavoletto. La proponiamo a un prezzo di 22.900 euro, ovviamente importo finanziabile, rateizzabile, proseguiamo a farvi vedere altre vetture del gruppo Fiat, del gruppo FCA. Per ottimizzare un po' il tempo vi presento subito tre delle nostre auto che attualmente sono quelle più gettonate dei nostri clienti. Allora, partiamo subito con Panda City Cross, 1.2 benzina, 69 cavalli, Euro 6 D-Temp, e rimane una vettura omologata per 5 persone, abbiamo tutti gli optional che appunto sono Bluetooth, chiavetina USB, comandi al volante, una vettura super confortevole, e rimane appunto un chilometro zero e lo proponiamo a un prezzo di 13.500 euro. Passando poi all'allestimento 4x4, di colore rosso, veramente molto bella e molto giovanile, un allestimento 4x4 con cerchi in lega, anche lei Bluetooth, inserti in pelle sulle sedute, le barre tetto alte, quindi comode per poter attaccare ovviamente le barre trasversali. Chilometro zero anche lei, motore 900, 85 cavalli, la proponiamo a un prezzo di 15.900 euro. Eventualmente anche qui prodotti finanziabili ed eventualmente ritiriamo il vostro usato, valutiamo la permuta anche sul chilometro zero, una super valutazione. Passando sempre a City Car, abbiamo qui di fianco a noi una lancia Y, un allestimento Gold, la via di mezzo vera e propria, immatricolata anche l'anno 2020. Ricordo che nel 2020 abbiamo tutte le chilometro zero con i bolli già pagati, quindi un ulteriore incentivo per l'acquisto del chilometro zero. Questa lancia Y rimane dall'allestimento Gold con qualche piccolo accessorio aggiuntivo, chilometro zero come già vi dicevo, macchina che proponiamo a un prezzo di 13.400 euro. Ed eccoci qui con una fantastica Fiat Tipo, una 5 porte e una vettura veramente comoda per la famiglia, l'utilizzo cittadino e per il viaggio e per qualsiasi esigenza insomma. Un allestimento 1.6 lounge, multijet da 120 cavalli, rimangono praticamente gli allestimenti di tipo quelli più accessoriati. Vettura di marzo del 2018, una vettura aziendale con 30.000 chilometri percorsi, abbiamo appunto il cerchio Allegra 17, il fendinebbia, farettino con le strisce LED, schermo 7 pollici con Apple CarPlay e Android Auto, clima automatico bizona, una vettura che dove diamo garanzia e ve la consegneremo col tagliando completo fatto. Ovviamente anche su questo tipo di vetture offriamo svariate formule finanziarie, assicurazioni incluse nel prezzo ed eventualmente una possibile estensione di garanzia. Non rimane che dirvi appunto il prezzo, il prezzo è di 14.200 euro e anche su questo tipo di vetture valutiamo il vostro usato e ritiriamo la vostra permuta. Mini SUV e crossover, il segmento attualmente più in voga. Vi presento due fantastiche vetture, una 500X, un aziendale immatricolato a maggio del 2019, 15.000 km percorsi, un allestimento City Cross, colore grigio metallizzato, cerchi in lega appunto da 16, schermo 7 pollici con Apple CarPlay e Android Auto, climatizzatore manuale, insomma tutti i vari comfort e accessori appunto dell'allestimento City Cross. Vi aspetto in concessionario per spiegarveli meglio. Una vettura appunto che anche qui è ancora in garanzia Fiat, quindi un acquisto sereno e sicuro e eventualmente garanzia estendibile e ve la proponiamo a un prezzo di 16.900 euro. Passando invece a Jeep Renegade, Jeep Renegade è attualmente il segmento Jeep che va per la maggiore oltre a Compass. Questo è un chilometro zero, 1.6 multijet 120 cavalli, immatricolato a luglio del 2020 e anche qui abbiamo il bollo già pagato. Vettura che vi proponiamo a un prezzo di 26.200 euro e dove vi facciamo un forte sconto e eventualmente ritiriamo anche la vostra permuta, il vostro usato, prodotto anche qui finanziabile, è acquistabile tramite soluzioni finanziarie ovviamente su richieste del cliente per accontentare le sue esigenze insomma. Un saluto a tutti anche da Cristian, volevo presentarvi ora questa stupenda autovettura, è una 595 Abarth nella versione speciale competizione, ha addirittura 180 cavalli, è un usato freschissimo perché è del febbraio 2019, ha percorso solo 23.000 chilometri, ovviamente accessoriata di tutto, ABS, clima, SP, fare antinebbia, specchi elettrici, la radio MP3 col CarPlay, è una quattro posti ovviamente perché la 500 è solo quattro posti, volante multifunzione, bluetooth, cerchi da 17, quindi una versione molto bella, speciale, ha gli interni anche particolari della Sabelt, che è un optional molto gradito su queste vetture, la presentiamo a un prezzo di 24.300 euro. Proseguiamo la carrellata presentandovi una bellissima Jeep Renegade, nell'allestimento limited, quindi la versione più completa della Jeep Renegade. Il motore è il 1000, tre cilindri turbo da 120 cavalli, quindi un motore di nuova generazione, è una vettura a chilometri zero, immatricolata a febbraio 2020. Quest'auto, quindi come dicevo, essendo la versione più completa, è dotata anche di fari a LED, di sensori di parcheggio anteriori e posteriori, cerchi da 17, bluetooth, volante multifunzione, ha la radio con la possibilità di collegare il cellulare, e vedere il navigatore, quindi l'Apple CarPlay e l'Android Auto, quindi super accessoriata, la presentiamo a un prezzo di 21.900 euro. Vi presento ora una vettura molto interessante, è un Alfa Romeo Giulietta 1.6 multijet, quindi una turbodiesel, 120 cavalli, è già 1,6 euro, quindi non ci sono problemi di limitazione di circolazione, anche se uno deve andare, per esempio, in centro Milano, perché può circolare tranquillamente. l'allestimento è la Super, quindi quella accessoriata di cerchi da 17, clima automatico, e questo addirittura ha anche il cambio automatico, cambio automatico TCT, quindi sequenziale e automatico, i nuovi cambi che fanno ora, con il sistema a doppia frizione, diciamo. La macchina è molto bella, di un cuore nero, quindi è molto accessoriata anche di volante multifunzione, bluetooth, cerchia 17, come dicevo, specchi elettrici, la vendiamo a un prezzo di 17.000 euro. Parliamo ora di due bellissime vetture di casa Alfa Romeo, sono due Giulia, due e due turbodiesel, 150 cavalli, nell'allestimento Super, quindi già molto completo, ovviamente diesel Euro 6, quindi nessun problema di circolazione, anche nei centri città. Sono entrambe del 2017, una ha il cambio automatico e una manuale, hanno entrambe anche il navigatore, allora quella manuale ha percorso 32.000 km, quella automatica 25.000, ne ha percorse ancora meno. Differenza di prezzo di 1.000 euro, allora la manuale costa 20.300 euro, l'altra la proponiamo a 21.300 euro. Passiamo ora a Gamma Jeep, vi presento questa fantastica Compass, una 1.4 benzina allestimento Night Eagle, matriculata a giugno del 2020 e una chilometro zero, colore grigio scuro metallizzato, interno in pelle, navigatore, sistemi di parcheggio interiore e posteriori, telecamera, un allestimento super accessoriato, rimane praticamente quello che è il mini SUV della gamma Jeep, oltre poi che vi farò vedere un fantastico grancero che ve lo presenterò subito dopo di queste, e questa Jeep Compass la proponiamo a un prezzo di 26.700 euro. Presso lo showroom di Zappa troverete ovviamente tantissime chilometro zero di svariati modelli e allestimenti, come appunto appena presentato un Compass benzina, abbiamo anche un Compass diesel, 1.6 multijet, allestimento business, colore bianco, anche esso appunto essendo un business, con navigatore, è un cambio manuale, da sei rapporti, e rimane anche lui una chilometro zero. Il chilometro zero è matricolato a luglio del 2020, questa è una di quelle che appunto, come vi dicevo prima, Bollo ha anche già pagato, rimane una vettura già immatricolata, e la proponiamo a un prezzo di 24.400 euro. Ed eccoci qui con l'ammiraglia del marchio Jeep, Gran Cerochi, vettura è matricolata a febbraio del 2019, 3.000 gasolio con 250 cavalli, allestimento Overland, rimane appunto la top di gamma, farò l'oxeno, un sensore di parcheggio davanti, insomma è inutile che ve lo spiego, questo è veramente a su di tutto e di più. Una vettura che ha percorso solamente 24.000 chilometri, la proponiamo a un prezzo di 41.200 euro, e ovviamente vi aspettiamo per farvela vedere, per farvela provare, per valutare il vostro usato, e le varie soluzioni finanziarie per acquistare il veicolo. Un saluto anche da Alberto, ho piacere di presentarvi delle 500 L Cross, 1.4 95 cavalli, sono vetture chilometri zero, immatricolate a luglio 2020, allestimento già super completo, colori disponibili grigio moda, nero, la vettura sono completi chiaramente di climatizzatore, sensori di parcheggio posteriori, radio con sistema CarPlay, Android Auto, cerchi in lega, e sono offerte a 17.900 euro. È il turno ora di questa splendida Fiat Tipo, motorizzazione 1.6 Multijet, versione Station Wagon, allestimento Lounge, la vettura è matricolata a gennaio 2018, ha percorso solamente 21.000 chilometri, è completa di cerchi in lega da 17 pollici, sensori di parcheggio posteriori, cruise control, clima automatico, radio con sistema CarPlay, Android Auto, e offerta solo 14.300 euro. Splendida anche questa 500L, motorizzazione 1.3 Multijet 85 CV, allestimento Trekking, cioè il top di gamma per 500L, la vettura è matricolata a settembre 2013, ha percorso 96.000 chilometri, naturalmente con garanzia di 12 mesi, la vettura è completa di clima automatico, tetto panoramico, sensori di parcheggio, anche dal navigatore satellitare, è offerta a 9.900 euro. Vettura estremamente economica, ma alla moda, questa 500X 1.3 Multijet 95 CV, allestimento Urban, la vettura è matricolata a febbraio 2019, ed ha percorso solamente 10.400 chilometri, è dotata di climatizzatore manuale, sistema Bluetooth, è offerta a 16.900 euro. Una vettura da famiglia, al prezzo di un'utilitaria, questa Fiat Tipo 4 porte, motorizzazione 1.4, benzina 95 CV, disponiamo di diversi colori, vettura a gennaio del 2017, solamente 10.400 euro. Parliamo ora di questa bellissima 500X, il crossover di casa Fiat, è una chilometri zero, immatricolata a giugno 2020, il modello è una cross, quindi è l'allestimento più bello, più completo della gamma 500X. La motorizzazione è un 1000 turbo, tre cilindri, benzina, la macchina viene proposta a un prezzo di 20.900 euro. Buonasera a tutti da Gerardo, vi presento quest'Alfa Romeo Giulietta, cambio automatico doppia frizione, l'autovettura è matricolata a ottobre del 2012, è percorso soltanto 62.000 km, dotata di controllo di trazione, controllo di stabilità, climatizzatore manuale, ripeto, cambio automatico doppia frizione, l'autovettura è un 1.4 benzina 170 CV, la proponiamo a un prezzo di 10.400 euro. Passiamo invece in casa Ford, vi presento questa Ford Fiesta, immatricolata nel 2018, bella fresca, l'autovettura ha percorso 50.000 km, sempre bella accessoriata dal Bluetooth, a volante multifunzione, a climatizzatore, radio CD, specchietti elettrici, la proponiamo a un prezzo di 9.900 euro. Da Zappa potrete trovare altri km zero di altre case automobilistiche, passiamo in casa Renault, vi presento questa Renault Clio 5 porte benzina, la cilindrata dell'autovettura è un 1.000, eroga 65 CV, guidabile per neopatentati. L'autovettura è dotata di volante multifunzione, Bluetooth, specchietti elettrici, fari fendi nebbia, la vernice è metallizzata, è immatricolata a febbraio del 2020 e la proponiamo a un prezzo di 12.700 euro. Trovarvi sul mercato dell'usato, questo Fiat Ducato, panorama, 9 posti, motorizzazione 2.3 multijet, 150 CV, è stato immatricolato a novembre 2017, percorso 111.000 km. La vettura è dotata di climatizzatore, telecamera posteriore, volante multifunzione, ed offerto a 15.300 euro. Parliamo adesso di questa vettura multifunzione, un Fiat Cubo 1.3 multijet, motorizzazione turbodiesel, quindi 80 CV, sempre Euro 6, l'allestimento è lounge, quindi il modello più bello della Fiat Cubo, è immatricolato a marzo 2018 e ha percorso solo 15.000 km. Il veicolo è molto accessoriato, quindi climatizzatore, radio MP3, specchietti elettrici, anche i cerchi in lega, che danno un tocco di personalità su questo veicolo, e la vendiamo a un prezzo di 12.200 euro. Volevo presentarvi adesso questa bellissima city car di casa Peugeot, è una 108 1.2, tre cilindri, tre porte, nell'allestimento Allure, quindi il più completo. È molto bella perché è particolare, ha la carrozzeria bicolore, quindi di un bel bordeaux e grigio, con anche la fascia in tinta adesiva sulla fiancata, cerchio in lega bicolore, specchio cromato, ovviamente climatizzatore, volante in pelle, volante multifunzione, e anche la telecamera posteriore. La macchina del 2015 ha percorso solo 32.000 chilometri e viene venduta a un prezzo di 7.800 euro. Vi invito a venire a vederlo e a valutare il nostro usato, chiediamo sempre garanzia, tagliandiamo, facciamo tutti i lavori prima della consegna. Troverete, come state appunto vedendo, svariate occasioni e svariate offerte, appunto per tutte le vostre esigenze. Vi aspettiamo e vi auguriamo una buona serata.